Le proposte per un percorso rivolte alla possibile ripresa dell'uso dell'energia nucleare in Italia saranno sviluppate entro sei mesi. Con sette mesi, in effetti, un documento completo della tabella di marcia deve essere elaborato e quindi arrivare all'elaborazione dell'INEE guida con azioni, risorse, investimenti e tempi entro nove mesi. Questi sono i tempi indicati dal Ministero dell'Ambiente alla fine del primo incontro della Piattaforma Nazionale per il Nucleare Sostenibile. La Piattaforma Nazionale per Nucleare Sostenibile ha lo scopo definire determinati momenti un percorso rivolto alla possibile ripresa dell'uso dell'energia nucleare Italia e alle opportunità di crescita catena approvvigionamento industriale nazionale già operante nel settore. Comunica il Mase. Una nota occasione della prima riunione piattaforma tenutasi presso Ministero. Con la Piattaforma Nazionale per l'Energia Nucleare Sostenibile non è evidentemente di proporre l'appello in Italia alle grandi centrali nucleari della terza generazione. Ma di valutare le nuove tecnologie sicure dell'innovativo energia nucleare come il piccolo reattore. Modulare e Nuclear Reactors First Generation. Afferma il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fraten in una nota. Diffusa alla fine del primo incontro. Salvini l'Italia non può perdere tempo l'Italia non può perdere tempo deve essere chiaro l'obiettivo. Di tornare alla produzione di energia pulita e sicura attraverso l'energia nucleare. A partire dai prossimi anni. La protesta di fronte al Ministero l'energia nucleare non ci salverà. Stacciamo la spina a questo sistema. Ecco Resistensis. Con questa scrittura su uno standardo. Una dozzina di manifestanti ambientali protestano di fronte al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in cui la Piattaforma Nazionale per la Nucleare sostenibile e a cento grave stato incontrato. Testato nucleare. Disastro assicurato. È uno degli slogan che segnano. Sono interessati a farci tornare dopo 40 anni all'incubo nucleare. Questo è governo delle esercitazioni. Il ritorno al fossile e fossile guerra a tutti i costi. Dice una ragazza al megafono.